La demenza senile può essere evitata o quantomeno ridotta? Dottor Peperoni, un suo commento. Come è noto, la popolazione italiana e europea di oltre 65 anni ha superato il 22%, ma ancora più grave che quella a 80 anni ha superato il 4%, comportando un invecchiamento totale di tutta la popolazione europea in corso. A questo si aggiunge il fatto che la vera emergenza dei prossimi anni sono le patologie croniche, quindi il diabete, l'artrosi, l'ipertensione, lo scompenso cardiaco, la broncopremovativa cronico-ostruttiva ed altre altrettanto gravi. Però quello che forse non è noto è che queste seconde, cioè le patologie croniche, tendono a far invecchiare peggio. Quindi un soggetto ormai cinquantenne, sessantenne, che va incontro a patologia cronica, quale ad esempio il diabete è la più conosciuta e la più temuta, sicuramente è un soggetto che non invecchierà bene, non farà quello che noi dei figgeriatri definiamo un invecchiamento di successo. E quindi ciò che è importante come prevenzione primaria ma anche secondaria è quella di tenere strettamente sotto controllo le patologie croniche. Ripeto, il diabete è quella che forse è più conosciuta e che dà più problemi, ma oggi una patologia molto emergente rispetto ai dati, che sicuramente sta creando problemi di mobilità alla popolazione anziana e tutte le malattie degenerative, quelle delle ossa e del connettivo, quindi artrosi e artritiche. Ecco perché, ripeto, la prevenzione primaria e secondaria diventa fondamentale, affinché l'invecchiamento della popolazione sia in buona salute e senza problemi di handicap gravi, che potrebbero poi creare successivamente problematiche relative all'assistenza dell'anziano con tutte le questioni economiche che girano attorno e tutti i problemi sociali e familiari che ben conosciamo. Grazie a tutti.